buongiorno bambini oggi la nostra lezione sarà sul film iqbal bambini senza paura è un film di animazione sulle tematiche di diritti dei bambini e sulle emozioni vi ricordate che l'abbiamo fatta il primo quadrimestre leggeremo insieme la trama e poi vi lascio il link diretto dove poter vedere il film completo trama del film iqbal è un ragazzino che vive in un villaggio in qualche parte del mondo ed ha imparato l'arte di annodare i tappeti con i raffinatissimi nodi detti bangapur un giorno per poter comprare le medicine al fratello ammalato di polmonite si lascia bindolare da hakem un viscido imbroglione che si offre di comprare le medicine in cambio della realizzazione di un tappeto per il suo amico guzman in realtà iqbal viene venduto all'uomo che con la moglie ha messo in piedi una produzione clandestina di tappeti in cui fa lavorare come schiavi bambini che non potranno mai più tornare alle loro case iqbal però non ha intenzione di fare quella fine e riesce a fuggire non si dimenticherà però dei suoi compagni di prigionia li farà liberare e diventerà un simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile bene bambini adesso dovrete vedere il film e poi svolgere i compiti cominciamo intanto a vedere cosa dovete fare per i compiti allora compito consegna entro lunedì 25 maggio su un foglio o sul quaderno riscrivi il numero e il nome del personaggio e poi continua con la sua descrizione iqbal bambini senza paura qui di seguito trovi le immagini dei protagonisti del film ricordi i loro nomi anche se non li ricordi tutti non ha importanza prova però a descrivere il loro carattere chi metteresti tra i buoni chi tra i cattivi perché allora bambini io vi hai già aiutato mettendovi il numero del personaggio e il nome ok voi su quaderno dovrete riscrivere il numero il nome e andare avanti con la descrizione allora iqbal è il protagonista che carattere ha è buono è cattivo perché cosa fa questi bambini qui ve li ricordate lavorano con iqbal nella fabbrica di tappeti mettete il loro carattere scrivete sempre il numerino il nome con il carattere se aiuta iqbal che rapporto ha con iqbal quindi poi se è cattivo se è buono ecco la pagina successiva invece mostra i personaggi adulti del film allora abbiamo guzman anche qui dovete mettermi che carattere ha cosa fa aiuta iqbal è cattivo buono uguale per hakem attenzione lui vi ho già scritto chi è è il capitano cabir e è un policciotto si vede nell'ultima parte del film voi dovete scrivermi c'è un policciotto onesto disonesto se aiuta i bambini scrivetemi un po quindi il suo carattere se è buono se è cattivo lui è malikian è il segretario dell'associazione contro il lavoro minorile anche lui si vede verso la fine del film e mi dovete scrivere che carattere ha se aiuta i bambini cosa fa questi invece questi due personaggi ve li ricordate sono i coniugi flat importatori europei di tappeti d'oriente vi ricordate che vanno alla fabbrica di tappeti di guzman dove ci sono i bambini a lavorare come schiavi questa cosa secondo voi gli sconvolge cioè gli sconvolge che ci sono dei bambini schiavi che stanno facendo dei tappeti e li stanno facendo per loro e loro li pagano pochissimo una miseria e per poi rivenderli a tantissimo quindi loro come saranno saranno buoni cattivi come si comportano con i bambini scrivetemelo bene poi c'è l'ultima parte del compito ci sono questi due piccoli esercizi su un foglio sul quaderno scrivi le risposte corrette degli esercizi 1 nel film ci sono animali veri e alcuni di fantasia che rappresentano qualcosa di molto importante per iqbal collega ciascun animale al significato che ha per il piccolo protagonista abbiamo la capretta la raba fenice il coniglietto l'uccellino e qua a fianco abbiamo il loro significato o cosa rappresentano per il protagonista cioè per iqbal per esempio la capretta è la migliore amica di iqbal quindi sul quaderno scriverò esercizio 1 capretta freccetta la migliore amica di iqbal e così faccio anche per l'arabe fenice freccetta e scrivo qual è tra queste e anche per gli altri esercizio 2 iqbal viene rapito e costretto a fabbricare tappeti secondo te cosa dovrebbe fare nella sua vita normale un bambino dell'età di iqbal scegli una o più risposte qui sotto avete sei risposte in realtà ce n'è più di una corretta e niente dovete scrivere sul quaderno o sul foglio esercizio 2 e mettere in fila le risposte corrette bene bambini per oggi è tutto se avete qualche domanda o non avete capito qualcosa mi potete scrivere tramite mail la mia mail avete se invece tutto chiaro aspetto i vostri compiti e poi ci risentiamo per la correzione e ci risentiamo settimana prossima per la nuova lezione vi auguro una buona settimana e a presto ciao bambini